Radio Peter Pan Tecno Classico Tecno Classico Tecno Classico Tecno Classico Tecno Classico On Radio Peter Pan La mia La tua La nostra storia Tecno Classico La storia della musica Tecno Con Luca Antolini E Marco Corvi String by Andrea Nordio On Radio Peter Pan Tecno Classico Tecno Classico Perché il classico non si basta Buonasera e buon sabato a tutti Bentornati alla nona puntata di Tecno Classico Io sono Andrea Nordio E questo sabato sera Come tutti i sabati sera ormai Da un po' di tempo a questa parte Ascolteremo i classici della musica Tecno Selezionati e mixati Da Luca Antolini The Navigator E Marco Cordi Il cacciabombardiere Più o meno avrete cominciato Ad imparare a conoscere Lo schema del programma Cioè cominciamo sempre piano Tra virgolette piano Perché comunque non è che cominciamo proprio In maniera molto leggera e delicata E andiamo ad appesantire la cassa Mano a mano che si sviluppa il programma Fino ad arrivare Alla fine della puntata Con un bel pezzo Che solitamente è sui 140-145 BPM Yeah baby Questa sera arriviamo a 150 Ma basta parlare Sedetevi sui vostri banchi Perché comincia Scuola di Tecno E i primi brani che ascolteremo Saranno Motor con Bleep Timo Masser e Mix dal 1998 Seguito da Ricky Leroy Che salutiamo tanto Metempsicosi Dal 1999 E si comincia con Noeric 29 Le Petit Prince Buona Tecno a tutti On Radio Peter Pan Tecno Classic Con Luca Altruini E Marco Corbi Grazie a tutti 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 con Luca Grazie a tutti 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 Su Grazie a tutti 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 Su Radio Grazie a tutti 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 Su Radio Grazie a tutti 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 Luca Luca Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Su Grazie a tutti 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 Grazie a tutti